Le riserve sono a posto Ah no aspetta, è un bastone Buongiorno Buongiorno Non ci credo Incredibile ce l'abbiamo fatta La giù Penso io a coprirti Civili, in pericolo Non ci credo Rinforzi in arrivo Civili, in difficoltà Rilevato ostile con corazza pesante Non ci credo 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 Vedete qualcosa Setacciate l'area Richiesta di supporto Perciò Non ci credo 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Altri contatti ostili rilevati. Grazie a tutti. 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 È stato un onore combattere insieme. Grazie a tutti. Abbiamo visto giorni. Abbiamo visto giorni migliori. Abbiamo visto giorni migliori. Stiamo finendo le scorte. Abbiamo visto giorni migliori. Abbiamo visto giorni migliori. Grazie a tutti. Abbiamo visto giorni migliori.